bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video io credo di volerci riprovare di volerci riprovare però a questo punto andrei col cecchino no ha esplorato ancora di là il manichino veramente va bene non è un problema orco giude un problema se invece io pensavo quel barrett è infatti ok bella 10.000 punti easy e andiamo ragazzi andiamo prendiamo il barrett di explode o porca miseria non so se ce la facciamo non so ce la faccio ragazzi ma non c'è il manichino raga come il manichino è qui perché non l'ho visto ma l'ha presa lui come grazie easy mi ha risparmiato un po di danè andiamo è veramente oscena quest'arma o che gentile ragazzi me l'ha comprata lui me l'ha comprata riproviamo riproviamo vado a prendere il cecchino di di sport ma come fa ad avere 11 11 bouncer questo lol forza ragazzi forza ragazzi sono arrivato secondo prima questa che mi serviva per strapparli dalle fredde mani il la dub qua non ho resistito alla fine ragazzi ho preso il bundle di joker ho preso l'ho preso l'ho preso si può ancora fare come challenge abbiamo appena risparmiato orca anche questo ha preso il coso c'è più vicino di così cosa devo fare ma vaffanco easy intanto continuiamo a risparmiare i soldi dobbiamo andare a moglie a prendere almeno la pistola di risa sarà con cosa spari sto cichino può aiutarti ma non non ce la faremo mai se trovassi però un rift mi serve la pistola di risa no no non l'hanno levato il pesce rift l'ho appena preso mi interessava arrivare qua non ho mazza ma ce la posso fare signori si può fare ormai ci siamo ormai ci siamo perfetto signorina mi serve la sua pistola easy easy sto facendo una challenge dove devo vincere solo con armi esotiche ora non c'è molto tempo per fare cose quindi si farma e si avanza e si incrociano le dita 17 colpi devi andagli cioè il problema è che neanche se gli vai sotto gli fai male ma devono andare a segno tutti e due su due se non ce la si fa ragazzi che non possono sparare a me stanno sparando a me stanno sparando a me porco cazzo no vedi che stanno inseguendo un altro deve essere infrattato qua da qualche parte deve essere qua deve essere qua da qualche parte ragazzi io prendere la taglia quasi quasi facciamoci andare bene facciamoci andare bene queste ultime pescate porca miseria via è difficile vincere solo con le armi esotiche posso dirvi posso garantirvi gente l'ha il problema è che questo non è un cecchino questo qua spara le clinger la figata è che però spara le clinger utilizzando i colpi del cecchino che è una figata perché in realtà non fa tanto male fa 10 e le clinger fanno 60 niente di interessante non siamo messi così male con calma con calma siamo dentro in sei siamo dentro ma chi sparano vediamo a chi stanno sparando easy easy due clinger attaccate 120 di danno pulito bella questa bella questa e se ti attacco due clinger sei morto bella questa ragazzi e l'ho buttato dentro ok 60 mi sembra più il più genio della cucciolata non devo fargli fare il suo gioco ok ok Grazie a tutti. Piano, piano. Uscio. Non c'è fretta. Non c'è fretta. Let's go! Dai! Solo con armi esotiche! Ce la faccio! Ciao! 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 Ciao!